carissimi amiche e carissimi amici il vostro giocherellone il vostro giocherellone colui che vi porta i videogiochi più belli del passato e del presente e di nuovo qui praticamente con che cosa con un gioco open board un gioco gratuito basato sulle tartarughe ninja quindi pensate un pochettino teneggi buttando ninja turtles rescue paluza un gioco molto particolare gratuito avete capito bene il gioco delle tartarughe ninja gratuito fatto un gioco amatoriale fatto dai fan per i fan quindi veramente qualcosa di incredibile iniziamo subito a giocare possiamo addirittura salvare ci sono varie modalità di gioco story mode arcade mode e bonus stage facciamo lo story mode possiamo scegliere leonardo eccolo qua per esempio scegliamo possiamo scegliere solo leonardo ragazzi addirittura perché perché se giocate con un personaggio qua ci troviamo in questo ambiente ambiente forse un po ostile dobbiamo dire la verità dove il povero il povero amico praticamente il povero il povero ecco qua ragazzi vedete un pochettino il povero leonardo qui mamma mia ragazzi è arrivato sono arrivati i robotoni mamma mia ragazzi i robotoni possiamo fare addirittura questo ovviamente una modalità vedete ragazzi incredibile praticamente dove possiamo andare addirittura a correre praticamente il gioco è fatto praticamente con una grafica simile nintendo 8 bit ma molto molto fluida come animazioni quindi veramente molto molto bello un prodotto che sicuramente non posso che consigliarvi avete capito bene guardate un pochettino quindi possiamo fare l'attacco a raffica praticamente ecco qua sofia de cesare ragazzi è arrivata la mitica sofia sofia de cesare la nostra cara amica mamma mia ragazzi guardate qui sopra veramente incredibile andiamo col mitico saltariello andiamo a correre praticamente via vedete il povero leonardo adesso dovrà andare praticamente a diciamo a combattere combattere con i saltarielli doppio salto e poi ovviamente salto vedete un pochettino quindi possiamo correre sofia de cesare ti piacciono le tartarughe ninja vedi un pochettino il caro leonardo qui che cosa deve fare pur di salvare manattan tu sai che le tartarughe praticamente sono sono ambientate si trovano a manattan eccole qua praticamente vedete un pochettino guardate il saltariello il saltariello qua sopra e dobbiamo distruggere i super robot praticamente super robot che sono molto molto potenti vedete un pochettino qui sopra e che possono essere distrutti solo se faremo ovviamente quello che che ci viene detto da splinter il grande maestro vedete ragazzi è arrivato il maestro perfetto già un po più attacca e possiamo distruggere le tartarughe le ragazze poi l'atta c'è l'attacco praticamente come potete vedere questo attacco particolare ovvero l'attacco speciale delle tartarughe ninja ogni tartaruga ha un proprio attacco speciale ragazzi come potete vedere guardate un pochettino questo questo colpo che ovviamente va a colpire praticamente questo essere e il super attacco speciale quindi vedete press the feed the enemy using second technique già un po più già ecco qua ragazzi guardate qui la grande tecnica la grande tecnica che questa qua legata a un personaggio in particolare grande grande grandissime le tartarughe ben do well done well done ovviamente ragazzi e possiamo andare via quindi premiamo sotto più attacco per fare l'attacco ovviamente volante vedete guardate un pochettino quindi far saltare addirittura il nemico il nemico via ragazzi è questo questo è il gioco delle tartarughe praticamente well done praticamente seguiamo gli altri e poi abbiamo il colpo speciale il colpo del trottorello vediamo un pochettino ragazzi se possiamo attacco di trottola vedete con l'attacco di trottola che andiamo praticamente andare a distruggere qui sopra il nemico che dovrà però essere caricato avete capito bene ragazzi e guardate qui leonardo leonardo che guarda praticamente il suo caro amico il suo caro ma è questo praticamente bene perfetto sei il mio studente e te ne puoi andare in giro per manata un affare che ragazzi che cosa guardate qui la mitica mamma mia ragazzi guardate qui qui sopra cosa sta succedendo come sta il gioco del lune sto molto bene cara sofia de cesare oggi porto un gioco dedicato a spera e basta che mi ha chiesto praticamente mi ha chiesto tantissimo questo videogioco basato sulle tartarughe ninja e questo è un open board che cosa è un open board è un gioco fatto con un motore grafico gratuito per sviluppare per sviluppare picchiaduro a scorrimento hai capito bene quindi proprio picchiaduro o a scorrimento utilizzando spesso delle grafiche di titoli a band of wear ma addirittura a volte licenziati ovviamente molte volte le case poi dopo tendono a far chiudere a far scomparire questo tipo di giochi al momento la nickel o nickel tunes presente che la casa che si occupa delle tartarughe ninja non ha ancora detto niente non ha ancora detto niente e quindi noi ci godiamo ovviamente questo mitico treni mutante ninja tartar rescue boba appolozza come si chiama lui praticamente quindi una situazione molto particolare vedete un pochettino donatello che cosa va a fare quindi e shredder che fa parte o so un pochino bene mi fa piacere che la sofia de cesare ti eri ti rimesso praticamente ti eri rimesso non stavi molto in salute quindi hai fatto bene a riposarti mi raccomando fai sempre buona buona alimentazione a base sicuramente di frutta e verdura a segui sempre i consigli al tuo medico curante sicuramente arance sono la cosa ideale soprattutto in questa stagione ricche di vitamina c e zuccheri semplici ovviamente segui consigli tua mamma e tuo padre i due parenti e ovviamente il tuo medico curante quindi veramente veramente per per farci stare bene vita sicuramente di prendere freddo di esporti sicuramente avvento neve pioggia copriti sempre anche se in realtà il 21 marzo dovrebbe entrare la primavera e poi ovviamente abbiamo la possibilità di mangiare sicuramente sano soprattutto noi che abitiamo in italia mangiando frutta e verdura pensa cara sofia de cesare che la frutta in giappone costa più della carne più del pesce scusami non più non più della carne rossa più della carne di pesce più del pesce e mentre in italia ovviamente come puoi sapere in europa la frutta diciamo costa abbastanza poco costa abbastanza poco vabbè ragazzi dopo queste 28 28 mila praticamente cose possiamo capire un attimo dove andare praticamente a salvare a salvare la nostra praticamente la nostra la nostra april o nil vediamo un pochettino andiamo all'interno praticamente dello studio quindi abbiamo leonardo in questo caso prendiamo michelangelo ragazzi chiamo michelangelo e possiamo salvare però ci serve un pizza point quindi molto molto eccolo qua ragazzi e guardate qui sopra il grande il grandissimo praticamente michelangelone praticamente michelangelone con l'attacco praticamente speciale mamma mia ragazze qui sopra sono arrivate le gra la grafica un po piccolina dobbiamo dire la verità però ottimamente animato oltretutto si è evitato sicuramente di andare guardate qui i ragnoni praticamente si è evitato praticamente di andare a infrangere il copyright in quanto tutte le tartarughe sono state praticamente ridisegnate da zero ma anche così anche come tutti i personaggi un gioco molto sì o mamma mia il mappamondo in testa quindi c'è anche quell'ironia quella simpatia che avevamo visto avevamo già trovato nei titoli della konami andiamo qui dentro mamma mia ragazzi ecco la banda del piede guarda qua il piedone il piedone l'africano addirittura qui sotto andiamo con mamma mia un coltellone praticamente in faccia povero 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 povera tartaruga qui sopra che va a ricevere va a ricevere di tutto e di più dobbiamo entrare praticamente guardate un pochettino la faccia della tartaruga ed eccolo qua il grande ninja il grande ninja che ci ricorda forse pino pino shooter colui guarda un pochettino possiamo sa la ragazza l'abbiamo picchiata purtroppo è stata è stata purtroppo annientata annientata con il il colpo del del kawabanga vedete un pochettino la tartaruga ninja il kawabanga è quello che dicono praticamente i surfisti hawaiiani pensate un pochettino qua ma un coltello in faccia addirittura perché perché le tartarughe dicono questa cosa veramente il grido di battaglia presente del del tartarugone del tartarugone e dei surfisti praticamente hawaiani qui sopra chiappiamo incredibili ovviamente mazziatone mazziatone perché mamma mia ragazzi guardate il mitico michelangelo guardate qui sopra un altro piede un altro piede un altro della banda del piede questa volta armati di boomerang ragazzi veramente incredibili oh mamma mia in faccia in faccia abbiamo chiappato il polpettone praticamente il polpettone da questa parte qua ragazzi ci siamo fatti male ma qui ci fa ci fa salire ci fa ci fa ridere ci fa ridere come ecco qua la tecnica dello shonkantuken lo shonkantuken una tecnica marziale veramente potentissima ragazzi mamma mia guarda qua guarda qua guarda qui sopra guarda che fa l'alieno mi prende come se fosse l'alieno di alien storm dobbiamo dire vedete andiamo a correre praticamente questa parte gabrie gg ragazzi è arrivato il mitico gabrielino gabrielino gg praticamente vedete un pochettino e l'uomo rana che cos'è l'uomo mosca praticamente il moscone il moscone il moscati il moscati guardate un pochettino e mamma mia ragazzi qui è difficile difficile ma con lo duty con lo duty arriverà dopo con lo duty arriverà dopo arriveranno tanti videogiochi in questo pomeriggio ho capito bene e intanto ovviamente proseguiamo proseguiamo con questa grande richiesta di sfere bassa che ci aveva chiesto che ci aveva chiesto proprio il gioco delle tartarughe ninja questo gioco è gratuito avete capito bene ragazzi teniamo già mutante ninja turtle mischio rescue apollosa apollosa popolosa come si chiama lui praticamente non ricordo di preciso un gioco molto particolare quindi andiamo subito con le tartarughe le vedi un pochettino a cercare di annientare il moscone il vespone il vespone il vespone guarda qua guarda qua caro gigi guarda caro gigi ma vai qui sopra il colpo il colpo del colpo delle dei piedi puzzolenti e pino shooter pino shooter il nostro caro amico calabrese ragazzi da 4 mila euro al mese dobbiamo dire la verità capo 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 treno e presto anche capo stazione pensate un pochettino grandissimo pino shooter che per anni ragazzi fate sempre quello che ha fatto pino praticamente studiate studiate studiato ecco babbo natale babbo natale ma chi sei tu babbo natale praticamente ve lo ricordate ve lo ricordate studiate studiate fate come pino che praticamente ha studiato tantissimo nella vita ha sempre rispettato quello che dici dopo mi mandi la richiesta di amicizia certo la richiesta di amicizia te la mando guarda il bummo con un piede nella nella pizza praticamente e quindi che cosa è successo pino shooter pensate un pochettino ero un ragazzo pino shooter ho stato a scuola ho stato a scuola guarda come parla bene pino juder molto bravo a parlare pensate che pino pensate che pino praticamente quando era piccolo mi chiamo gabby 3000 gabby 3003 praticamente un pochettino come sunblock 5000 te ricordi il sunblock 5000 di robocop ecco qua mamma me lago il colpo il colpo del backster praticamente guardate un pochettino qui qua sotto ragazzi veramente assurdo e quindi voi sapete che pino praticamente quando era piccolo non voleva studiare il padre di pino disse il padre di pino disse scusami scusami ma caro pino praticamente caro pino praticamente che cosa sta succedendo praticamente qui sopra praticamente con pino ha detto pino devi devi studiare altrimenti un giorno andrà a zappare il terreno non che sia brutto zappare il terreno ma sarà un lavoro molto faticoso e poco remunerativo quindi è meglio che vai a studiare pino è andato praticamente a studiare pensate un pochettino quindi il papà e tutti quanti hanno fatto dei sacrifici incredibili per far studiare pino che era molto portato praticamente era molto portato e quindi che cosa è successo che cosa è successo e praticamente pino con grandi sacrifici è riuscito a studiare ecco qualche ritaglia 23 caro a carità la vendita e ciao bello il videogioco il cofanetto tutta serie tutta la serie no questo qua però santi lo manto santi lo mando questo gioco è un gioco gratuito ecco qua è un open board un open board è praticamente un gioco un gioco che è gratuito e sviluppato come fan gioco fa da fanboy praticamente fa med fa med scusami un attimo guarda come ride incredibile carissimi amici è bene sì non monto i binari ma guido i treni avete capito bene quindi che cosa fece pino che fece pino praticamente da 4 mila euro al mese per avere questo posto di 4 mila euro al mese ha studiato non tanto ma tantissimo pensate un pochettino studiato tantissimo e ha fatto il concorso pubblico praticamente per lo ferrovie dello stato lo ha vinto è stato uno dei primi pensate un pochettino ad arrivare e poi praticamente è riuscito è riuscito praticamente ad arrivare tra i primi e ha vinto il concorso è praticamente pino porta oggi i treni avete capito bene quindi quando entrate su una metropolitana e prendete un treno potrebbe esserci pino al comando adesso non so se è un bene o se è un male ecco qua questo con queste cose non le sappiamo però non le vogliamo sapere non le vogliamo di ora sono un ragazzo calabrese di successo è vero è vero e in realtà pino pino diciamo rappresenta il sacrificio del ragazzo calabrese che ha studiato che ha studiato e che ha fatto il concorso pubblico quindi praticamente ha fatto il concorso pubblico ed è riuscito praticamente a vincere a vincere incredibilmente ragazzi il concorso quindi studiate fatte sempre come ha fatto pino e andate avanti su questa strada su questa vita niente maniglie amici cari niente maniglie per attaccarsi per attaccarsi a che cosa quindi poi dopo se nessuna raccomandazione solamente tanto tanto studio e questo ovviamente il bello di pino e questo che ci piace anche di pino la sincerità la l'allegria praticamente ancora ma ancora mossi carai carai ecco qualche teccoli eccole alessandro arcangeli alessandro arcangeli stavamo parlando di pino shooter il ragazzo calabrese che oggi guadagna 4000 euro al mese che dicevo anche per i ragazzi un po più giovani ha sempre studiato ha sempre studiato ha sempre studiato ha sempre fatto quello che dicevano i genitori e addirittura oggi si ritrova praticamente essere un capotreno un capotreno che che guadagna più di 4000 euro al mese più buoni pasto quindi pensate un pochettino buoni pasto da 12 da 12 euro e 50 addirittura pensate un pochettino con cui si compra compra praticamente i polpettoni quelli la in offerta praticamente i polpettoni in offerta che trova nelle rosticcerie è un ragazzo simpatico pino diciamo grande mi saluti agritale 23 ti saluto ti saluto tantissimo prima abbiamo portato anche stamattina presto un gioco molto particolare faccio la spesa vai la spesa praticamente pino con i buoni pasto da 12 euro e 50 pensate un pochettino e sono situazioni sono situazioni molto belli quelle là di pino pensate che in genere un comune cioè l'ente di più basso livello guadagna il dipendente comunale guadagna 7 euro di buoni pasto pino 12 euro e 50 assurdo quasi il doppio assurdo quasi a livello di un ministero addirittura è assurdo e questo è pino e pino è fatto così praticamente pino attenzione ragazzi al colpo al colpo dello zebedee contorno al caffè contorno al caffè capito bene contorno e caffè si beve tutto si mangia tutte le cosarielle pratica del cavo a banga guardate michelangelo che si arrotola veramente bellissimo adesso possiamo fare praticamente delle cose abbiamo salvato verlo che for a fervo mutante e con qualcuno abbiamo eliminato il primo elemento andiamo avanti con il dolly la nave la nave quindi la cosa della nave quindi ci sono vedete ragazzi vari stage gioco molto bello p mp rimo donatello vedete ragazzi donatello quindi ecco qua donatello in realtà è sempre non altro che mangia la pizza ragazzi è veramente divertente guardate un pochettino qui ci ricorda un pochettino strada quindi per chi ama ma strada troverà queste sensazioni molto particolari molto un deja vu praticamente il gioco sta diventando però difficilotto dobbiamo dire la verità ragazzi guardate un pochettino qui sopra il grande bombolone il grande bombolone che arriva praticamente dal nord vedete un pochettino quindi dobbiamo distruggere forse anche quell'altro elemento praticamente il polpettaro il polpettaro vedi un pochettino a gritar oggi la mattina ho visto un mio amico hacker che si chiama hackerita 32 forse ti sta ti sta ma ti sta praticamente ti sta cercando di clonare praticamente non lo sappiamo cosa succederà sappiamo solamente che non potrebbe essere né pino né alessandro arcangelo ragazzi qui ce l'abbiamo fatta vedete un pochettino guardate qui la banda del piede con con la motoretta praticamente vedete un pochettino con la piccola motoretta che qui sopra forse può essere anche utilizzata avete capito bene dalla tartaruga ninja ve l'avevo detto ragazzi che era bellissimo praticamente vedete è tutto gratuito questo gioco è un gioco open board pensate un pochettino e quindi ragazzi ve l'ho detto fate come ha fatto pino e guadagnerete anche voi 4000 euro al mese pensate un pochettino potreste potrete uscire con i vostri cani praticamente la sera la notte a giocare a giocare con questi cani veramente incredibili cani che sicuramente a volte pino alla forza fisica anche per portarseli per portarseli dietro praticamente a volte lo trascinano i cani bulldogger praticamente pensate un pochettino questi cani che a volte hanno fatto anche paura avvicinato ma pino ovviamente detto ma non ti preoccupare sono dei cagnolini sono dei cagnolini quindi non ti preoccupare di questa cosa qua non mordono non mordono ovviamente disse l'ultima volta addirittura vicino a eduardo vianello praticamente eduardo vianello che disse mamma mia questo cane pi tuo pino ovviamente mamma in quanto ha morso stiamo attenti andiamo c'è praticamente qui sopra e saltiamo saltiamo perché dobbiamo distruggere vedete ragazzi la banda del piede puzzolente addirittura possiamo rientrare dentro spero di sì ecco qua saltiamo e usciamo ecco qua guardate che bello molto fatto veramente molto molto bene questo prodotto prodotto amatoriale fatto dai fan delle tartarughe ninja è bello è bello e buono praticamente la banda del piede il ninja bianco il grande ninja bianco colui che conosce le arti marziali di un altro tempo praticamente quindi attenzione ovviamente a questa parte qua vedete un pochettino e immediatamente eccolo qua il grande il grande il mostro praticamente ground chuck e dirt back che sono ovviamente il talpone il talpone forse sono personaggi nuovi praticamente che sono usciti praticamente qui sopra addirittura uno si è arrabbiato una si è arrabbiato col colpo praticamente quindi la tartaruga ninja che veramente ragazzi fa farci qualcosa di incredibile guardate il topolone il muscolone il muscolone praticamente qui sopra andiamo a cercare di attaccare praticamente questo essere praticamente qui sopra addirittura donatello non ce la fa ragazzi vedete sti sono forti sono forti e sono forti ma non dobbiamo abbiamo perso ragazzi abbiamo perso qui i soldi non ci sono più anche l'italia manda biblioteca alessandro arcano l'intervista che tempo fa ferranni c'è vita fuori dai social va vissuta da fazio su pandoro gate in buona fede e confede se crisi forte e mi dispiace ci dispiace anche un po a tutti quanti ragazzi che dirvi di questo titolo open board ovvero gratuito creato amatorialmente tenendo mutante ninja tartar rescue paloza praticamente gioco molto bello in gratuito quindi procurato e lo esiste per pc ma esiste anche per sistemi simile di rinca simile dream cast che possono far partire in parte in parte programmi per pc infatti per esempio molti open board usciti per pc poi sono stati tra virgolette convertiti anche facilmente per 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 praticamente perdere in cast per esempio ve lo consiglio assolutissimamente si è fatto veramente molto molto bene spratto un po piccoli ma gli diamo un bel 9 è fatto bene procuratevolo perché ne vale la pena oltretutto è gratuito dice il mitico hacker italia alessandro canali ventus spera che il napoli vince e rilancia meno male caro alessandro arcangeli per il resto ragazzi io vi ringrazio per la visione se non siete iscritti al canale giocarellone mi invito a iscrivervi youtube twitch telegrammi scoda pagina facebook e blog tiktok truiz c'è veramente tutto e di più il principale social network youtube e twitch potete non solo iscrivervi ma anche abbonarvi così da avere le tante migliorie tra cui l'eliminazione di pubblicità su twitch e soprattutto ragazzi soprattutto avete la possibilità di avere delle migliorie incredibili musiche dedicate videogiochi dedicati c'è veramente tutto e di più lettura dei temi natale astrologici di tutto e di più detto questo detto questo gli altri social network che trovate in box informazioni vi consiglio sicuramente discord dove trovate oltretutto anche alessandro arcangeli che fa una selezione delle news più belle del web e le posta lì volete comprare un gadget del giocarellone cliccate in box informazioni andate su negozi potete comprare 207 gradi in tre varianti volete comprare addirittura giochi a un prezzo scontato se siete iscritti al canale giocarellone potete soffrire degli fantastici sconti di stand gaming box informazioni e poi stand gaming volete comprare un libro del giocarellone all'interno delle descrizioni dei vari video ci sono i miei tre testi al momento breve ne pubblicherò anche due altri due praticamente i miei libri disponibili su amazon grazie mille per la visione e ci vediamo dopo con altri incredibili videogiochi alessandro arcangeli emergenza disoccupati over 50 è mio caro ti crei un lavoro e fai qualche cosa pino ciao 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 pino ciao stato buona ecco qua pino stato buona da oggi in poi lo chiameremo pino stato buona ciao a tutti a tutti